Eccoci pronti amici per descrivere e sintetizzare le notizie del giorno, così come sono pubblicate dai giornali questa mattina, dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino. Intanto vi auguro una buona giornata, oggi è venerdì 13 maggio 2022, il sole è già sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.25. E oggi per quanto riguarda il Santo del Giorno vediamo che non si festeggia un santo particolare, ma il Libro dei Santi ci invita a considerare e a meditare sulle apparizioni di Fatima. Oggi dunque si festeggia la Beata Vergine di Fatima. Il 13 maggio del 1917, Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzi rispettivamente di 10, 9 e 7 anni, e di un piccolo paese del Portogallo, vi darò su un leccio apparire una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, hanno poi dichiarato. In totale furono sei le apparizioni di questa signora che invitò pressamente gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla penitenza. E per questo avvenimento Fano TV si collegherà alle 10 di questa mattina con Fatima in occasione appunto del 105esimo anniversario delle apparizioni. Era, ripeto, il 13 maggio del 1917. Ed ora vediamo alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo si mantiene bello, si mantiene bello su tutta la regione Marche. le vediamo qui nella grafica. Giornata stabile e asciutta, con cieli sereni, o al più leggermente offuscati da velature in transito la sera. Le massime sono alte, al di fuori della media stagionale arriveranno fino a 27 gradi. Sulle coste ispireranno venti da una direzione di ovest, così come nell'entroterra. E le minime sono 17 gradi, ma ormai le abbiamo lasciati questi gradi indietro e la temperatura sta aumentando. Bene, allora iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal resto del Carlino. Questa mattina con una buona notizia. Una buona notizia per gli over 65. Arrivano 200 euro al mese. Sono gli assegni di cura riservati agli anziani non autosufficienti residenti nei nove comuni dell'ambito sociale. La graduatoria è stata stilata in base alla ISEE. In arrivo dunque entro questo mese, entro il mese di maggio, questi contributi, 200 euro, non sono molti ma possono aiutare i bilanci e di chi non ha molte disponibilità economiche. A Fano i 200 euro andranno a 142 anziani, 35 a quelli di Mondolfo, 27 a quelli di Pergola, 20 a Mondavio, 18 a San Lorenzo in campo e poi 17 a San Costanzo e a Terre Roveresche, 12 a Monteporzio, 2 a Fraterosa. La graduatoria, dicevo, è stata approvata nella giornata di mercoledì proprio dall'ambito sociale. L'ambito sociale, lo ricordiamo, è presieduto da Fano come comune capofila e lo presiede a nome del sindaco, l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. Troppe vie senza nome, caos nelle zone rurali. È un argomento che Fano TV ha trattato nel notiziario appunto di ieri sera. È un problema questo, perché ci sono tante vie che non hanno un nome. Questo pone in difficoltà sia i mezzi di soccorso quando devono intervenire in casi di emergenza, sia il postino quando deve recapitare delle raccomandate e quindi della corrispondenza importante. Un problema che soprattutto dà destra difficoltà ai residenti di Metauriglia e anche quelli di Bellocchi. E poi c'è una dicotomia, una dicotomia tra la strada di mezzo di Metauriglia e la strada di mezzo di Rosciano. Insomma, quando uno scrive un indirizzo poi non scrive magari Metauriglia o Rosciano e per cui la corrispondenza si perde e non si sa chi deve essere recapitata. È un processo complicato, ha detto Miccoli, che è il funzionario che presiede all'ufficio della toponomastica del Comune di Fano. È un problema complicato che richiede il coinvolgimento dei cittadini e che si giustifica nelle aree rurali raggiunte dalla urbanizzazione dove c'è un numero consistente di abitazioni o quando la richiesta avanzata è degli stessi cittadini. Insomma, bisogna dare il nome a queste vie. Proposte non mancano. Di solito si diceva che mancavano le vie. In realtà non è così. Ci sono le proposte, ci sono le vie e quindi la commissione toponomastica dovrebbe attivarsi. Però ci sono problemi burocratici di proprietà comunale o meno, problemi che ancora non si riescono a risolvere. Citiamo la pagina sul resto del Carlino e vediamo come c'è una notizia di alta finanza. L'impresa di navigazione Montanari, una delle imprese leader dell'economia fanese, ma io direi dell'economia italiana, prende il largo e acquista nove, anzi sei navi. Sono navi importanti, navi di grosso tonnellaggio. Il prezzo, pensate, è di 108 milioni di dollari finanziati con banca in limiti. La flotta del gruppo fanese torna così ai fasti passati, 18 scafi in totale. Una flotta dunque considerevole. E dietro questa operazione ci sarebbe il gruppo De Agostini che controlla anche i debiti di Marina dei Cesari. Insomma, è la società Dea Capital De Agostini che ha ceduto alla famiglia degli armatori della città sei navi di grande tonnellaggio per una cifra di 108 milioni di dollari, facendo tornare la flotta, dicevo, ai fasti di qualche anno fa. Secondo poi le indiscrezioni riportate dal resto del Carlino, la società cittadina che ha la presidenza Corrado Montanari fare voglia allargare il suo business lavorando non solo nell'ambito del petrolio e del gas, come ha fatto fino adesso, ma anche nel trasporto di altre materie prime. E questo sembra che sia un momento importante e particolare per quanto riguarda il trasporto su nave dato che la questione del petrolio, del gas e la guerra tra la Russia e l'Ucraina destano complicazioni. Oggi apre anche il Bastione San Gallo, uno dei monumenti più belli, più emergenti della Fano antica. Bastione San Gallo che viene dato in gestione dal comune di Fano all'associazione Work in Progress, un'associazione di ragazzi che da tempo organizza, soprattutto nel periodo estivo, manifestazioni, iniziative di carattere musicale, laboratori, mostre, incontri, insomma di intrattenimento per quanto riguarda appunto fanesi e turisti. La Work in Progress è subentrata all'associazione San Gallo che ha lasciato la gestione del Bastione anzitempo e quindi è subentrata quale seconda concorrente che ha partecipato alla gara d'appalto. La Work in Progress è subenta ad un'altra associazione ma devono ancora iniziare i lavori per la pedana di accesso che spettano all'amministrazione comunale, precisa il resto del Carlino, precisa Anna Marchetti. Fino alla fine di maggio ha detto Davide Catarossi appunto che rappresenta l'associazione saremo operativi solo nel weekend venerdì, sabato e domenica. Poi a partire dal mese di giugno tutti i giorni sia mattina che sera sia al giorno che alla sera con i laboratori per bambini, concerti, incontri, proiezioni cinematografiche, insomma quella bastione che non è solo un monumento storico così da visitare magari distrattamente anche se meriterebbe un'attenzione particolare perché è un bellissimo baluardo costruito dal Papa ha regalato anche anzi dal Papa i fanesi e poi fatto costruire da un grande architetto come Antonio da Sangallo per difendere la città dagli assalti dei pirati saraceni insomma proprio lì in riva al mare riguardando Ancona insomma che era una delle mie preferite delle galee saracene ebbene dicevo che questa iniziativa si pone così a completamento di tutte le altre che subentreranno nel corso della stagione estiva Rocca Malazistiana Bastione Sangallo Darsena Borghese e via dicendo e poi c'è una contestazione nei confronti dell'amministrazione comunale fatta da Fratelli d'Italia che insomma dicendo che il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto l'amministrazione comunale esulta per la consegna della bandiera blu Fratelli d'Italia che è l'opposizione invece critica l'amministrazione perché non tutte le spiagge hanno ricevuto il vessillo in modo particolare due spiagge importanti come il Lido e l'Arzilla bandiera blu che boomerang intitola il giornale l'inquinamento da batteri è un problema non ancora risolto e qui vediamo la foto di Lucia Tarsi consigliera comunale di Fratelli d'Italia Guccini oltre l'amore la cittadinanza onoraria verrà concessa dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri al cantautore durante una seduta del consiglio comunale ad hoc convocata per il 25 giugno prossimo Guccini diventerà cittadino onorario di Mondolfo si è sposato con la mondorfese Raffaella Zuccari le nozze furono celebrate dal primo cittadino di allora che era Pietro Cavallo e da allora Francesco Guccini è solito frequentare questa bellissima località dell'immediato introterra della nostra provincia durante i mesi estivi insomma per passare le ferie nella stessa sera appunto della consegna della cittadinanza onoraria il neo cittadino presenterà il suo libro il suo ultimo libro Tre Cene omicidio Grilli ve lo ricordate l'omicidio che vide come vittima il 74enne di San Lorenzo in campo Sesto Grilli che fu ucciso legato alla sedia con un nastro adesivo e un cuscino sul volto i giudici supremi hanno confermato ieri in via definitiva due ergastoli uno per Franco De Luca a 42 anni e l'altro per Dante Lanza a 36 ritenuti gli esecutori materiali del delitto confermate anche le pene a 16 anni e 14 per concorso anomalo dell'omicidio più due anni per la tentata rapina per altri due complici si tratta di Massimiliano Cagliazza 30 anni e Nino De Luca sempre 30 anni fratello minore di Franco a Urbino passiamo dalla pagina di Urbino i portacolori dell'Ateneo alle urne nazionali due studenti dell'Università di Urbino sono stati eletti per rappresentare appunto tutti gli studenti universitari in un organo importante il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ebbene si tratta di Giovanni Alvarez e Chiara Fichera che frequentano l'Università e sono i candidati appunto che rappresenteranno l'Ateneo alle elezioni per il Consiglio Nazionale il Consiglio è un organo di rappresentanza universitaria di livello nazionale composto da 28 studenti ha il compito di fare proposte direttamente al Ministero per le attività didattiche servizi allo studente borse di studio insomma e altre necessità del mondo della scuola quello più alto quello universitario ancora sulla pagina del resto del Carlino parliamo della notte dei musei notte dei musei che si svolge sabato prossimo tra sabato e domenica coinvolgerà ovviamente tutte le istituzioni nazionali si entrerà in tutti i musei le aree archeologiche di carattere nazionale pagando il biglietto simbolico di un euro quindi un'occasione importante per visitare importanti siti e ovviamente si potrà visitare con queste condizioni anche il palazzo ducale di Urbino la notte dei musei torna a brillare riparte l'iniziativa tre luoghi visitabili la galleria nazionale delle marche e punto palazzo ducale il museo diocesano e gli oratori tra le novità di palazzo ducale l'esposizione delle ceramiche con maioliche del cinquecento è un'occasione per fare un bellissimo viaggio nei tesori della città del duca e nelle meraviglie del rinascimento diamo un'occhiata anche le pagine di pesaro pubblicate dal resto del carlino e dato che abbiamo parlato di musei parliamo anche del museo oliveriano che riaprirà ad agosto dopo un lungo periodo di chiusura e l'inaugurazione verrà fatta con il ministro ai beni culturali Franceschini i lavori di riqualificazione dovevano durare solo 120 giorni dalla chiusura invece sono trascorsi pensate sette anni e non si capisce bene perché questo lungo ritardo comunque l'apertura l'annuncio dell'apertura è stato dato dal sindaco dal vice sindaco anzi Vimini restituiamo alla città uno dei luoghi più importanti il museo rinnovato diamo un'occhiata anche a un piccolo inciso sull'articolo il museo rinnovato ricorda il professore universitario Fabrizio Battistelli presidente dell'ente Olivieri che gestisce appunto il museo valorizza reperti di primo ordine è un'occasione anche per visitare il museo oliveriano mi raccomando come quelli delle collezioni Passeri e Olivieri le collezioni civiche epigrafiche e i corredi della necropoli di Novilara e poi ci sono anche sale dedicate alla Pesaro romana un nucleo dedicato alle divinità e agli spazi sacri come il lucus pisaureses e poi l'importante epigrafe scritta in etrusco e latino dedicata all'indovino lucius cafazius insomma dei reperti veramente di grande valore VL Tecnocasa il sindaco trova l'accordo e fa tutti e due permette permette alla Vitifrigo Arena di ospitare sia l'incontro della VL che la convention di Tecnocasa insomma ci è voluto l'intervento del sindaco del sindaco Matteo Ricci per risolvere questa questione e il suo intervento non è stato indolore per alcune persone come per esempio il gestore del grande palazzetto ovvero Colombo Filippo Colombo di cui è stata richiesta la rimozione il sindaco la richiesta espressamente al responsabile al presidente di Aspes Luca Pieri che deve togliere l'incarico appunto al direttore della Vitifrigo Arena è insomma una testa che dovrebbe cadere secondo il sindaco comunque la situazione tra la convention e la partita nel palace è stata risolta Sulle a San Bartolo debutta We Nature due giorni di sport musica ed eventi ospiti di eccezione saranno Alessandro Cecchi Paone e l'ornitologo 14 anni solo 14 anni Francesco Barberini Daniele Vimini ha presentato questa iniziativa nel 2023 termineremo di sistemare la strada che arriva alla spiaggia di Fiorenzuola ha detto così per inciso nel momento in cui ha illustrato il ricco programma tra escursioni di trek bike laboratori convegni seminari di fotografia che caratterizzeranno questa due giorni che si svolgerà il 21 e il 22 maggio dalle 8 alle 19 appunto sul San Bartolo un'altra notizia la estrapoliamo appunto sempre dal resto del Carlino dove il giornale evidenzia chi ha vinto il concorso di Cittadino dell'anno un'iniziativa assunta dallo stesso Carlino ebbene vincitore è risultato Don Giuseppe il parroco della parrocchia della Madonna di Loreto ieri mattina la premiazione nel Salone Metaurense della Prefettura ecco i primi sei classificati li vediamo qui in questa fotografia sono da sinistra Emanuele Gambini il quinto e poi ancora Giacomo Pieri il terzo Giorgio Benelli il quarto Don Giuseppe Fabrini lo vediamo qui in questa posizione il vincitore Ugo Schiaratura secondo classificato Paolo Marchinelli il sesto appunto che ha vinto il riconoscimento poi abbiamo due pagine interamente dedicate a questa notizia ora sfogliamo il Corriere Adriatico lo vediamo qua nella pagina di Fano dove si parla di un importante convegno che si è svolto ieri a conclusione del progetto Startup Tunisia l'esperienza agroalimentare per generare 30 Startup il Comune di Fano è stato nominato capofila di un importante progetto di collaborazione internazionale teso ad aiutare i Paesi in via di sviluppo come per esempio la Tunisia si è intervenuti nel settore del settore agricolo in quello della bioagricoltura in quello dell'allevamento delle api e quindi della produzione del miele in quello della pesca insomma si è cercato di dare ai piccoli imprenditori soprattutto le medie piccole aziende di questo Paese africano che interfaccia che si collega direttamente appunto con il sistema economico italiano pensate per esempio a tutto il problema poi delle fonti energetiche e via dicendo insomma adesso non stiamo qui da approfondire il discorso però un progetto che ha posto così nelle condizioni piccoli imprenditori tunisini di qualificare di più il proprio lavoro di produzione ma anche di collegamento con la trasformazione del prodotto e quindi con il commercio insomma una visione globale di tutto il sistema produttivo per dare ancora più linfa e sostegno alle imprese al convegno alla memo anche la sottosegretaria del governo del ministero degli esteri Marina Sereni e poi c'era il sindaco di Fano che insomma come rappresentante del comune capogruppo del progetto ha illustrato i risultati dello stesso e poi parliamo di un'altra iniziativa quella dedicata all'anniversario di Luigi Pirandello premio Nobel nel 1934 ebbene per ricordare Pirandello si ricorda anche Ruggero Ruggeri il grande attore nato a Fano Pirandello convegno europeo per Ruggeri ecco due grandi figure unite insieme alla fine del mese anche la fase finale del concorso per attori under 30 ebbene il cartellone completo di queste iniziative che sono state organizzate dal comune di Fano in collaborazione con la Rocca Malatestiana si svolgeranno dal 26 al 29 maggio prossimo e il programma è stato illustrato ieri dal direttore artistico Massimo Pugliani con altre personalità sabato 26 maggio alle 9 30 nella Rocca Malatestiana ci sarà l'apertura di un convegno dedicato a Pirandello e poi nella Pinacoteca San Domenico un corso di specializzazione condotto dai componenti della giuria che dovrà individuare i tre migliori giovani attori su 12 già selezionati un concorso dunque per i migliori attori aeroporto scade l'asta pubblica scade l'asta pubblica perché in questa occasione le quote che sono in proprietà della provincia dovranno essere messe all'asta la provincia non ne vuole più sapere dell'aeroporto di Fano e quindi dismette le proprie azioni offerte dovranno essere presentate entro lunedì alle 12 e 30 il bilancio del 2021 in perdita solo per gli ammortamenti in realtà ha segnato di grandi progressi in questi ultimi anni e se non ci fosse la questione degli ammortamenti che poi ha generato il cambio di gestione il bilancio ora sarebbe pari se non inattivo comunque l'aeroporto di Fano costituisce sempre un gioiellino che dovrebbe essere valorizzato di più comunque incombe anche la fine della società Fanum fortuna che lo gestisce perché tutto poi dovrebbe essere messo all'asta ma questo è un altro discorso nega i soldi della retta dell'asilo per chi gli vuole giocare alle slot ebbene un marito è stato messo sotto accusa per maltrattamenti la moglie finisce due volte al pronto soccorso per le botte che ha ricevuto si tratta di un 43enne tunisino accusato appunto di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie entrambi risiedono a Fano non voleva dare i soldi per pagare la retta dell'asilo della bambina e voleva usarli invece per giocare alle slot machine insomma siamo arrivati a questo punto la struttura polivalente nella memoria di Sarena domani l'inaugurazione a Castel Sant'Angelo sul Nera il legame con Sant'Ippolito i genitori di Sarena Polverari mamma Lorena e babbo Marziano sono lieti di invitare la cittadinanza alla inaugurazione della struttura polivalente domani a Castel Sant'Angelo sul Nera alle 10 e 30 Castel Sant'Angelo sul Nera è un paesino marchigiano che è stato veramente violentato dal terremoto e anche queste iniziative incentivano per attirare l'interesse sulla ricostruzione del paese vediamo anche la pagina di Senigallia scatti alla rotonda e street food sarà un weekend tutto da gustare collezioni di foto del maestro Giacomelli il portabandiera appunto dell'immagine di Senigallia un grande fotografo italiano verranno messe all'asta notte dei musei e visite guidate anche in questa località insomma sabato e domenica prossima ci sarà l'imbarazzo della scelta per visitare le bellezze del nostro territorio vediamo anche qualche notizia di Pesaro due pagine sono dedicate alla conclusione del problema che si era evidenziato alla vitifrigo arena per la concomitanza di due iniziative Colombo dirigente inadeguato ha dichiarato il sindaco Ricci che ha chiesto la sua testa a Pieri ne abbiamo già parlato ed ora passiamo invece ad un lavoro atteso ponte sul foglia lavori sono stati assegnati però il cantiere resta un'incognita l'assessore Pozzi speriamo di avviarlo il cantiere entro giugno i lavori dureranno un anno e mezzo insomma il ponte sul foglia una struttura importante e poi ancora We Nature tra clima e ricerca con gli esperti e gli scienziati due giorni di eventi nel cuore verde al parco nazionale del San Bartolo e poi la giornata degli infermieri che è stata celebrata in modo particolare a Pesaro un grazie ha detto la Presidente appunto dell'Associazione che tutela i diritti degli infermieri e un grazie non basta non basta lo ha dichiarato appunto perché il vero nocciolo della questione è il rapporto tra i sacrifici che fa questo personale ospedaliero e invece le ricompense che riceve non basta soltanto dire bravo occorre qualcosa di più la giornata internazionale un premio dedicato alla Crinelli per la tesi di Laura Piccioli e poi è Laura Biagiotti appunto che interviene quale appunto rappresentante della categoria e lo vediamo qui in quest'altro articolo di fondo pagina siamo in conclusione non mi rimane altro che salutarvi voglio soltanto farvi vedere un titolo per quanto riguarda lo sport Fano ci giochiamo la stagione in una gara ed è il vasto Girardi domenica prossima che decreterà la sorte dei Granata dicevo è l'ultima notizia non mi rimane che salutarvi e augurarvi una buona giornata a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.